Vai, vai, bravi, bravi! Territorio, accoglienza, risposte, diritti. Sono le parole d'ordine del lavoro quotidiano delle leghe dello SPICGL, anche in Toscana. Inaugurare una nuova sede, come è accaduto lo scorso 21 giugno a Prato, è insieme una festa e un impegno per il presente e il futuro. Noi abbiamo un sindacato che in Toscana conta circa 260.000 iscritti persone anziane, persone che però hanno svolto un'attività lavorativa per una vita, persone che oggi presentano necessità da dover in qualche maniera avere una risposta. Noi lo facciamo attraverso i servizi e non solo, ma lo facciamo a partire da quest'anno anche sperimentando l'apertura di sportelli sociali, dove gli anziani e le loro famiglie possano trovare risposte anche a problemi di non autosufficienza intendendo la possibilità di capire dove e da chi rivolgersi per avere risposte ai problemi impellenti e che qualche volta creano anche grosse difficoltà alle loro famiglie. La Lega Luciano Lama può contare su un numero consistente di iscritti allo SPICGL, circa 5.000. Siamo nella zona nord-ovest della città, un'area a importante densità di immigrazione e la sede del sindacato è diventata, nel tempo, quella precedente aperta nel 2005 e a poche centinaia di metri, un punto di riferimento non solo per i pensionati. Avevamo la necessità di una sede più spaziosa, perché quella che eravamo prima era molto piccola. Abbiamo preso questa decisione e in due mesi abbiamo venduto, comprato, ristrutturato e resa operativa la sede. Un gran lavoro, ma con una grande soddisfazione per poter essere presenti in questo pezzo della città che è importante per la popolazione e per chi ci abita, compreso la popolazione di etnia cinese, che noi vogliamo cercare di avvicinare. Quindi qui si fanno denunce dei redditi, tutta la parte CAF, tutta la parte padronato e tutti in servizio ai cittadini, ai pensionati, che sono necessari. Questo è uno dei quartieri più importanti dal punto di vista della popolazione e anche, certo, è un quartiere ormai definibile multietnico, questa zona. Però il fatto che ci sia un sindacato, in particolare la CGL, sindacato più grande, che investe, raddoppia gli spazi, dà servizio ai cittadini, fa presidio sociale, è una buona notizia per tutti. In questo caso, in questa apertura, c'è un valore ancora più importante perché attraverso le nostre sedi possiamo fare un altro tipo di servizio fondamentale che è quello, attraverso la solidarietà e la presenza, rispondere a esigenze anche di integrazione con cittadini, magari anche anziani, ma che provengano da etnie diverse dalla nostra e non solo, anche cittadini più giovani, ma questo è un servizio che possiamo fare solo se siamo sul territorio e possiamo rispondere ai bisogni delle persone.